ciao a tutti ragazzi bentornati al mio canale e oggi come vedete siamo su polisimulator portal ho fissato allora nuovo via maschio facciamo frank miller benissimo modalità del gioco sarebbe casuale benissimo toriel acid ok è la prima volta che lo avvio perciò ok eccoci allora questa panora è distretto qui potrei selezionare i vari turni va bene ogni settimana dovevi partecipare eh delmeno cinque turni ok ok è solo questo qua perciò ok abbiamo solo le chiamate multe per parcheggi regolari ok no ok selezioniamo eh abbiamo solo questo distretto per il momento 15 minuti e poi ritorno ok eccoci qua secondo me se le piglia il gioco ok 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 ecc ok E' il primo turno. E' molta miseria fa che ora. Ora, non ci sarebbe? Ok. E' un po' di trello che si è opposto. E' un po' di trello. 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 Ok. 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 no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come stai facendo? Grazie a tutti. Vediamo quest'auto qua. Vediamo qui. 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 È buono. Vediamo qui. Vediamo qui. Vediamo qui. Vediamo qui. Vediamo. Vediamo qui. 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 Ok Non so da che tipo d'affari voglio sapere, non ci si può compenetrare, eh? Eh, compenetrato, vediamo. Allora, vediamo questo qua. Ok, però mi spiace per lei. Non devo fare, posso, posso. Ragisce, allora, molta, zona speciale. Ok. 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 Non c'è quella targa, ma non c'è un'altra niscia. Vediamo la targa di riusco. E ti te va bene. Sì, non è vero. La invece... Ok... Oh, scusate, ne incontro la mano. Scusate. Oh, no. No, no, no. Oh, va bene il metto. Uh... Tô controlla. Ok. Resta una beana. Resta una beana. 21 è scaduta, ok, allora, tanto la targa è scaduta, poi Ah, subito, ok, 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 ok Ok, allora invece, metti il tre va bene, va bene Io allora, volo Questa auto può scaricare qua, vediamo se, va più che bene 23, tutto bene, perché mi trovi al posto, 23 va bene, buono splendido, vediamo quale 23 giusto, ok, testa gigante, assunzione di alco in un nuovo pubblico, hai visto una persona mentre assumeva, ok io ho dovuto trovare a te con 300 dollari per l'intoxicazione pubblica, hai visto un giorno ok e che ci farei 22 22 22 23 24 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 33 33 34 35 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 36 36 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 35 35 36 37 37 38 38 39 39 40 39